Eh, ci siamo. Qua se guasta in amicizia, se guasta il tempo, se guasta i matrimoni, ma sto rompipalle di telefono non se guasta mai. Ma chi è? Ma non affanculo. Ma faccia un po' te, affanculo. Mi scusi, sa. Senti, ho qui davanti a me il signor Robert Clayton, un detective incaricato dai Lloyd di Londra. E che cazzo vuole da me? Come che cazzo vuole? Mi perdoni, salzo la voce. Anico, si tratta di un affare molto grosso. A Londra ritengono di essere stati truffati da una società di assicurazione italiana di nome Inutria. L'amministratore sarebbe un certo Pasquale Pinarelli. Pare che si tratti di un paio di milioni. E per un paio di milioni mando uno a romper i coglioni fino a qua. Sì, ma sono sterline. Due milioni di sterline. Ah, sterline. No, no, io non posso andare a nessun posto. No, devo andare a una TV libera, Antenna 7. Devo partecipare a un cosa, a un dibattito sull'ordine pubblico. E tu vai a parlare a televisione? Ma non mi fa rire, se sai di solo parolacce. Ma quando mai a tozzi, ma quali parolacce? Ma vaffanculo tu e cuo sfatacessi di inglese, va. La saluta tanto. Grazie, commissario.